Ogni anno all'inizio dell'estate ho un appuntamento fisso, una vacanza di pesca con un amico straordinario, Luca, panico paura. Vita da fiume, comincia a farsi sentire, questo è solo l'inizio. Luca è un fuoriclasse, dedito alla pesca estrema in ambienti selvaggi e privi di ogni comodità a caccia di mostri, veri e propri giganti con cui ingaggiare lotte estreme. Che razza, mettici dentro la testa! Quest'anno però abbiamo deciso di cambiare spot e target, un po' per le condizioni dei fiumi, ridotti al minimo da una siccità ormai fuori controllo su tutta la penisola, un po' per soddisfare quella che è una mia passione che purtroppo riesco a praticare raramente, il carp fishing classico. Ho contatto alle piante, vediamo che ti avevo detto di là. No, dai, dai, ci siamo, ci siamo preparati. No, dai, ci siamo, 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 ci